Mi è piaciuto se qualcuno si sarà offeso per quelle che sono le votazioni. Va bene, va bene, andiamo alla votazione. Fabio, Fabio, andiamo alla votazione. Abbiamo Bigis. Aspetta, aspetta. Undicesimo posto, 5 punti. Bigis, che ringrazio, 5 punti. Vanda Osiris, 6 punti. Aspetta, aspetta, 6 punti. Te le dico io, 6 punti, Vanda Osiris. Andiamo avanti, 7 punti. Liga Bue. 8 punti. Patti Prave. 9 punti. Angelina Mango. 10 punti. Gigliora Cinquetti. 11 punti. Francesco Sarcina. 12 punti. Irina Cara. Eh? Irina Cara, ho capito. Irina Cara. 13 punti. Renato Zero. E il terzo posto. Harry Styles. Secondo posto. Primo posto. Noah. Questa è la classifica di... Bravi tutti. Uno dei grandi vittatori, Ubaldo Pantani. Grazie, grazie di cuore. Scusate un attimo, eh. Perché manca pochissimo alla mezzanotte. Mi potete far entrare quell'oggetto che c'è là dietro? Loretta? Giorgio, potete venire un attimo qua? Venite qua. Perché il 29 è il compleanno di Loretta e il 30, cioè adesso, fra qualche secondo, è il compleanno di Giorgio Panariello. E quindi, venite, abbiamo aspettato la mezzanotte per spengere le candeline. Wow! Venite qua. Ed è anche il compleanno di Renato Zero e qua al quale facciamo ovviamente gli auguri. Aspetta. A noi! Tu spengi quella celeste, tu quella rosa. Pronti? Aspetta, aspetta, aspetta. Vabbè, dai, sono 10 secondi, andiamo, dai, dai, c'è TV7 dopo di noi, vai. No, porta malissimo. Ah, porta malissimo prima. Allora aspettiamo 30 secondi così. Tanti auguri a noi, tanti auguri a noi, tanti auguri a noi, tanti auguri a Giorgio, tanti auguri a noi. Grazie. Auguri, Giorgio. Grazie, grazie. Auguri, Loretta. Buon anno, buon anno. Aspetta. 3, 2, 1, potete spengere. Vai. Grazie. Auguri. Grazie. E vi ricordo sempre. Che c'ho la potenza nei bracci. No. Che sei sempre più vecchio di me. Perfetto. Va, ecco. Questo ci hai fatto bene a ricordare. Tu non parlare di me comunque. No, 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 ho detto niente. No, no, ho detto niente. Finisce qui. Andiamo con la votazione, riprendiamo con la votazione, dopo la mangiamo questa torta. Grazie. Maggi, visto che sei lì a posto, a te. 5 punti, undicesimo posto. Biggins. 6 punti. Angelina. 7 punti. Patti Bravo. 8 punti. Belli. 9 punti. Mega 2. 0. 10 punti. Cinquetti. 11 punti. Osiris. 12 punti. Irene Cara. Il podio per Malgioglio Vede al terzo posto con 13 punti. Noah. Al secondo posto con 14 punti. Sarcina. Al primo posto con 15 punti. Iris Tales. Wow. Loretta, tocca a te stasera mi sa che è molto, molto elaborata la classica. È veramente tosta e devo dire la verità che mi dispiace di aver dato i 6 punti a una persona che stimo tantissimo, un artista che stimo tantissimo, ma che stasera era la meno somigliante di tutti. Va bene, ora scopriremo. Parliamo a livello di imitazione. Ora scopriremo. Ok? Va bene. 5 punti. Bee Gees. 6 punti. Banda Osiris. 7 punti. Patti Bravo. 8 punti. Gigliola Cinquetti. 9 punti. Renato Zero. 10 punti. Liga Bue. 11 punti. Angelina Mango. 12 punti. Irene Cara. Il podio per Loretta Vede. Terzo posto, 13 punti. Sarcina. Secondo posto, 14 punti. Noa. Primo posto, 15 punti. Harry Styles. Ai. Tutta da scoprire la classifica di questa sera e sarà più che mai frutto della somma di tutte le vostre preferenze. Giorgio, ancora auguri, buon compleanno. Grazie. Tocca a te. Grazie. Undicesimo posto, 5 punti. Biagis. 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 Decimo posto, 6 punti. Banda Osiris. Sette punti. Patti Bravo. Otto punti. Liga Bue. Nove punti. Renato Zero. Dieci punti. Angelina Mango. Undici punti. Gigliola Cinquetti. Dodici punti. Irene Cara. Vediamo il podio per Giorgio. Sarcina. Terzo posto, 13 punti. Hai detto Sarcina. Secondo posto, 14 punti. Noa. Primo posto, 15 punti. Heavy Styles. Questa è la classifica. Vi ho visto leggere differenze. Adesso arriva anche il verdetto social. Visto che non l'ha portata via nessuno. Faccio quello che dovevano fare altri. Ma lo faccio io. Non importa. Vai piano. Non è perché sei capace di distruggerla. Ecco il verdetto. Grazie signorino. Molto gentile. Vediamo i social che cosa dicono. Vi ricordo che ha quelli più votati. Il più votato prende 5 punti. Il secondo 3 punti. Il terzo 1 punto. Allora. Più votata di tutti. 5 punti. A Ginevra Lamborghini. E alla sua Mango. Secondo posto. Prende 3 punti. Ilaria Mongiovì. E la sua Noah. Terzo posto. Un punto. A Luca Gaudiano. E al suo. Sarcina. Mi dicono per la cronaca. Che al quarto posto ci siete voi. Ci sono i bg's. Anche questa settimana. Però non prendete neanche un punto. Biagio. Grazie di essere stato con noi. In bocca al lupo per tutto. Grazie. E se ti richiamano torna. Torna. Allora. Vediamo la classifica. Attesissima questa sera. Equilibratissima. In testa una votata. Insomma siamo là. Quindi sarà forse questione di 1, 2, 3. Pochi punti di differenza. Scopriamola insieme. Voi siete pronti? Dopo di noi come sempre TV7 che torna. Ma intanto vediamo la classifica. Undicesimo posto. Paolo Antoni e Cirilli. I bg's. Diglielo a Francesco che siete arrivati qui. Decima. Giosquillo. La sua patti pravo. 29 punti. si sale. Nono Alex Belli. Il suo Luciano Ligabù è 38 punti. Si sale. Si sale. Verso l'ottava posizione. Scalpi. Renato Zero. 40 punti. Settima. Maria Teresa Ruta. La sua Gigliola Cinquetti. 44. Il sesto posto è di Ginevra Lamborghini. La sua Angelina Mango. 46 punti. Ormai vedete che cominciamo ad essere un punto di differenza. Pochi punti di differenza fra l'uno e l'altro. Quinto posto per Pamela Prati. Vanda Osiris. 49. Quarto posto per Jasmine Rotolo. Ayrin Cara. 53. Adesso attenzione. Scopriamo insieme il podio di questa sera. Che vede al terzo posto. Luca Gaudiano e Francesco Sarcina. 57. E vince questa seconda puntata della tredicesima edizione di Tale e Quale Show. Ilaria Mongiovi e Lorenzo Licitra. Parità. Parità.